buongiorno a tutti e ancora si nota il fumo si è pazzesco l'impresso di questo apprezzamento è da dietro da dietro l'archetto ma se io vado da qui questa travessa c'è? eh si ma vedi se li fanno passare i cavi non li fanno passare ma perchè una bruciatura è passata? no non ho capire ma non si facciamano dire come diremo se un po' non ci coprono no è che bene ti fanno passare la piccola e tutto parte perchè bruciava pure dall'altra parte quindi bruciava tutto e dove parte? e sta con l'altra parte? da sotto l'arco da dove se tu sali di qua c'è la salita, salita, scina, torna via padolisi ed esci sui scale mob, immobile tiraggio museo che hanno fatto due morti ma è mai funzionata hanno speso i soldi invece di aggiustare casa a Cuenza 10 nel frattempo sono stato mettendo live sulla mia pagina ed esci proprio là sotto esci proprio all'arco però mi fanno passare perchè là è puro l'ingegno e di là l'impresso è tutto come c'è che stanno mi fanno passare? c'è ancora una puzza terribile ragazzi, è assurdo massimiliano massimiliano se ci dovranno passare? no Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Forse 20 cisterne hanno portato da ieri E' veramente vergognoso ragazzi E' assurdo